In viaggio dove ha vissuto Gesù, un folto gruppo di spezzini ha accolto l'invito della comunità di Gaggiola per incontrare i tanti luoghi della Terra Santa in vista del Natale. La Terra Santa siamo noi ogni volta che siamo misericordiosi che perdoniamo, ogni volta che sappiamo amare con cuore sincero questo lo spirito della visita appunto in tanti luoghi in Terra Santa. Il box centrale è dedicato alla Scuola della Parola. L'azione cattolica diocesana con l'iniziativa appunto dal titolo Scuola della Parola approfondisce quest'anno il tema Contemplazione ed azione due volti del discepolo di Cristo. Il prossimo incontro sarà venerdì alle 21 nella parrocchia di Molicciara. L'articolo di Spalla è invece dedicato alla religione a scuola, il messaggio dei Vescovi. Questo perché nel mese di gennaio le famiglie devono scegliere appunto sull'ora di insegnamento per i loro figli nelle scuole. E i Vescovi sottolineano il valore dell'ora di religione per una educazione che definiscono integrale della persona umana. A centro pagina la scomparsa di Serri e di Bellettato, duplice lutto a Sarzana. Trovate il ricordo di queste due figure appunto che hanno svolto un ruolo importante soprattutto nella città appunto sarzanese. E a fondo pagina l'incontro tra cielo e terra, una mostra per il Natale. E' ancora visitabile fino a mercoledì prossimo la rassegna natalizia dell'Unione Cattolica Artisti Italiani nella sede del Circolo Culturale del Santo. E infine far sentire a tutti il calore di una casa. In Cristo Re domani il Vescovo consegna il premio della bontà al gruppo Colazioni col Sorriso. E infine un altro appuntamento, la messa per padre Dionisio nel ricorrere dei 29 anni dalla morte del Cappuccino. Una messa appunto per ricordarlo domenica prossima alle 11. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico a venire.